Numero 11 Ciao Come ti chiami? Cosetta Cosetta, è un nome La concordia di Mirandola, perfetto Cosa fai di bene nella vita? Io sono una fisioterapista Una fisioterapista Alla grande Ti asciugherò a tempo indeterminato Ascolta Come vorresti l'uomo ideale? Un uomo vitale Con molti interessi Allora, un uomo vitale Con molti interessi Penso che sia il tavolo giusto Non un patofonale Un uomo che esca Che mette le serate hanno singoli Esatto, bravo, bravo Così si fa Numero 11 Che vada ai mercatini anche Ai mercatini Ma certo Alla domenica mattina alle sette e mezza Cosetta Però si devi versare presto Ancora E' la paura, no? Chi è la venti? No, no, no Ah, infatti mi sembrava Dove l'aveva già chiamata Ciao Cioè qui stiamo andando alla grande Non so se mi tenerebbe di conto Tu se devi scegliere tra loro Come fai? Scrivo Non so se mi chiede di conto Non so se mi chiede di conto E ho Balletto Allora Grazie a tutti.